lo sport in collaborazione con dai più valore alla tua casa fiagli pegaso i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio una grande esposizione per arredare con mobili di qualità prezzi imbattibili e in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi 9 alessandria visita il sito pegasomobili.it la lega pro ha comunicato che a dirigere l'incontro alessandria rezzo in programma domenica primo ottobre alle ore 16 e 30 allo stadio piola di vercelli l'associazione italiana arbitri ha designato lorenzo maggioni della sezione arbitrale di lecco coadiuvato dagli assistenti fabbrizio lombardo di sesto san giovanni e gammal moctar di lecco sempre la lega pro sul suo sito comunica le date e gli orari delle partite fino alla sedicesima giornata dei campionati di serie c di tutte e tre i gironi a b e c sono state indicate anche tutte le dirette sport ricordiamo che gli orari d'inizio delle partite resteranno alle 16 e 30 oppure in serale alle ore 20 e 30 fino a novembre del 2017 poi a dicembre e poi ancora per gennaio e febbraio 2018 la domenica l'orario d'inizio previsto per gli incontri di calcio alle 14 e 30 o in serale alle 18 e 30 per quanto riguarda gli ultimi mesi marzo aprile maggio 2018 il sabato l'inizio sarà alle ore 14 e 30 alle 16 e 30 alle 18 e 30 alle 20 e 30 pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi nuovi alessandria visita il sito pegaso mobili punto it il meteo in collaborazione con immaginate di essere al caldo nella vostra casa immaginate un modo più più economico per riscaldarla vuoi saperne di più attendi qualche secondo ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa i vantaggi che ti offriamo con la caldaia pellet rtb sono la pulizia della cenere ogni sei mesi assistenza entro le 24 ore e garanzia per dieci anni eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico vuoi maggiori informazioni punto fuoco a tortona sulla circonvallazione adotta un bambino a distanza con soli 80 centesimi al giorno due vite che cambiano per sempre una è la tua per save the children adozione a distanza vuol dire identificare un'area di intervento e pianificare un aiuto a lungo termine collaborare con le famiglie e le comunità per garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini potrai seguire la crescita di un bambino e stringere con lui un bellissimo rapporto di amicizia attraverso i nostri aggiornamenti e le lettere che vi scambierete il tuo contributo insieme a quello di altri donatori generosi ci aiuterà a portare avanti i nostri programmi di salute istruzione e nutrizione per maggiori informazioni www.savethechildren.it